Presidente, l'arrivo del Presidente Mattarella che inaugura la Scuola di Formazione Magistratura 2023 è un segnale importante per tutta la categoria? È importantissimo, conferisce ancora più solennità a quella che è la scuola, il castello e riconosce il valore della tradizione giuridica della scuola napoletana. Non dimentichiamo che Castel Capuano per anni ha vissuto uno stato di abbandono e già da qualche anno ha trovato una sola collocazione con la Scuola di Formazione Magistratura e oggi viene consagrato questo suo ruolo. Serve personale nella giustizia? Sicuramente la criticità principale, tenga conto che in Italia siamo sul 15% di media di scoperture, media quindi vuol dire che ci sono anche situazioni come a Napoli, sezioni dove è il 30% di scopertura. Addirittura abbiamo una criticità, forse la principale, quella della sezione di Ischia dove il Presidente del Tribunale ha difficoltà a trovare colleghi togati da destinare stabilmente con l'inevitabile ripercussione sulla qualità e l'efficienza della giustizia.